A distanza di un mese dalla giornata per la cultura della gentilezza del 13 novembre, il progetto The Moving Art, che si propone attraverso azioni concrete di fornire esempi di altruismo e gentilezza, si sposta al palazzetto Urban in via Concezione a Monte Calvario, dove l'assessorato alle pari opportunità ha organizzato la merenda solidale, iniziativa che coinvolge i bambini delle associazioni Quartieri Spagnoli e la Casa dei Cristallini. Un cuore in movimento, è un lungo calendario e oggi siamo qui ai quartieri spagnoli per condividere insieme ai ragazzi del quartiere e del territorio la merenda solidale, ma è una delle tante iniziative che continueremo a portare in giro per le municipalità di Napoli e avremo Scampia, nuova centralità, dove faremo una nottata di Fashion Week, quindi tutti gli stilisti emergenti, conosciuti e non del territorio avranno la possibilità di farsi conoscere, grazie ovviamente ai tanti sponsor che si sono resi solidali per questo cuore in movimento.